Da papà non posso che provare profondo rispetto, non so se ne sarei capace, però c'è qualcosa che non funziona. Un conto è ammirare la mamma e pensare di condividerne il dolore, ma non bisogna però lasciare da parte perché è morta quella ragazza di 44 anni, perché c'è gente che si è presa a sprangati in mezzo a una strada. Io ricordo che tre anni fa è stato condannato a otto anni di galera un marocchino che guidando senza patente, sotto l'effetto di droghe ha ucciso in Calabria otto ciclisti. Non è possibile che otto esseri umani strappati alla vita mentre vanno in bicicletta meritino otto anni di galera, questa è gente che non dovrebbe più uscire di galera per tutta la vita. Quindi con tutto l'affetto e il sostegno per questa mamma che riesce a fare qualcosa che non mi provo neanche a immaginare di riuscire a fare, però detto questo da politico, da amministratore mi devo dire che c'è qualcosa che non va. Se degli indiani si prendono a sprangati in mezzo alla strada a Bergamo, perché a Bergamo non ci si prende a sprangati. Ci sono di mezzo gli immigrati. Il caso ci ho citato prima io, un ragazzo di 22 anni italiano ha sterminato una famiglia intera, non ha fatto un anno di galera. Signora, i delinquenti non hanno razza, ma siccome abbiamo già abbastanza delinquenti in Italia non vedo perché devo prendermi neanche da tutto il resto del mondo. visto che la metà della grunta... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Non sono solo i malattini indiani che vengono le persone che provocavano la morte. Signora, posso fare una domanda? Posso fare una domanda al carcere minorile di Milano? Qual è la percentuale di ragazzi stranieri che ci sono al carcere minorile di Milano? La maggioranza sono ragazzi italiani. Qual è la percentuale di stranieri? 40%. Ecco, 40%. Gli immigrati in Italia sono il 6%. Sia a San Vittore sia nelle carceri il 40% sono stranieri. Questo è razzismo. Perché io sono razzista. Ma basta. Questo è razzismo. Questo è razzismo. No, questo è matematica. Scusa, caro Sardini. Allora quel bello ragazzo italiano di 42 anni... Ma sto difendendo i delinquenti italiani. Una ragazza immigrata di 18 anni. Adesso comincia a urlare, la signora comincia a urlare. Perché non è possibile che... No, razzista sarà lei. No, perché non è possibile che si sta discutendo una cosa serissima, gravissima e stiamo discutendo di omicidio. Ma se l'ha uccisa un indiano è colpa mia. Che significa? Posso finire un discorso senza urlare con il mercato? Ma io lo sto urlando. Da quando 18 anni vado a donare il sangue? Che c'è? Se uno dà il sangue non sa a chi va il suo sangue. Io non dono il sangue a un lombardo o a un leghista. Io dono il sangue per quello che ne so può andare una bella persona a un delinquente, a un Roma, a uno svedese, a un milanese. Dono il sangue perché è una mia scelta, aiuto qualcuno che non so chi è perché è anonimo e volontario. Da politico però pretendo di poter dire che siccome già ci sono tanti delinquenti italiani, purtroppo, non ho bisogno di portare qua altre migliaia di delinquenti straniere in un'agenza. Ma che cosa è? Ma che cosa è? Paolo Salvini!